Ciao a tutti, nascerà una storia d'amore tra me e lui, chi fosse interessato ad avere una risposta a questa domanda segue il video. Nel frattempo iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora mescoliamo le carte, tagliamo, giriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere 4 casuali. La carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Ora, concentrati su questo lui del quale vuoi sapere se nascerà una storia d'amore, dopodiché scegli la carta 1, la carta 2, la carta 3, la carta 4. Perché ho scelto la carta 1? Beh, sarà una relazione dove ci saranno dei fastidi, fastidi a lungo termine. Che scelto la carta 2? Sì, potrà nascere una relazione d'amore anche molto solida e profonda. Che scelto la carta 3? Ebbene, è una persona molto solitaria, che ama molto la solitudine, ha poca voglia di, diciamo, uscire fuori dal suo guscio. Che ha scelto la carta 4? È possibile, però devi mettere in atto qualche cambiamento per raggiungere la vittoria che vuoi raggiungere. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!